Se ti nascondi alla morte, ti nascondi alla vita. Ascoltate tutti! Da oggi Emily si unirà alla nostra classe. L'altro giorno hai detto... di volermi aiutare. Sì, come? Sto partendo. Niente può separarci. No, il mio papà! Voglio farlo uscire dal manicomio in cui l'hanno messo. Ma non posso farlo da sola. Mi serve il tuo aiuto. State scappando? No. O almeno non credo. Non possiamo andare più veloce. No. Cosa mi dici di tuo padre? È uno scrittore. Il sesso è ciò che siamo! Sì, forte. Non proprio. Perché hai accettato? L'hai fatto solo per infilare la mano nella mia maglietta? È quello che credi? L'agente mente. L'agente se ne va. Non tutti mentono. Alcune persone aiutano e basta. Mi hai chiesto tutti di essere qui. E a me importa se vivi o muovi. Mi chiamo Emily. E a me importa se la stranenza. Mi ha chiesto di persone aiutano e ui e qui c'è ma록icherung.